Il compito del Vescovo è pregare e annunciare la risurrezione di Gesù. Se il Vescovo non prega e non annuncia il Vangelo ma si occupa di altre cose, il popolo di Dio ne soffre. Lo ha sottolineato Papa Francesco nella messa del mattino celebrata a Casa Santa Marta, commentando il Vangelo del giorno e la scelta dei dodici apostoli da parte di Gesù. Cristo li sceglie perché siano con Lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. I dodici, ha detto Papa Francesco, sono i primi Vescovi. La Chiesa senza Vescovo non può andare, ha aggiunto, invitando tutti a pregare per noi Vescovi che siamo peccatori e abbiamo debolezze. Il primo compito del Vescovo è stare con Gesù nella preghiera. Il primo compito del Vescovo non è fare piane pastorali e tanto no. Pregare, questo è il primo compito. Il secondo compito è essere testimone, cioè predicare. Predicare la salvezza che il Signore Gesù ci ha portato. Due compiti non facili, ma sono propriamente questi due compiti che fanno forte le colonne della Chiesa. Se queste colonne si indeboliscono perché il Vescovo non prega o prega poco o si dimentica di pregare, o perché il Vescovo non annuncia il Vangelo ma si occupa di altre cose, la Chiesa anche si indebolisce, soffre. Il popolo di Dio soffre. Perché le colonne sono debole. Perché le colonne sono debole. показывare. Perché le colonne sono dibole. Perché le colonne sono delleanov. Dio soffre. Secondo, dove piesciano Luca vendosi a questa poco di pregare, invece non faccio di più spostare. Ce vom pen che acc 36% di chiervi losimenti інit eliminate. Leni sono in un stato. Lo vensi 늘로 aliaspiston loro dei nostri pollo schifari. Perché le colonne sono due in un stato.